E ancora una volta ciao ragazzi, eccoci tornati in un nuovo video. Allora, è un video di carteggio, questo, li prendiamolo con il gufo, come è nostra abitudine. E l'altro invece, li facciamo un bel dispetto. No, ho sbagliato. Poi dovrei aver rotto la gabbia. E giustamente, l'Udan cerca di scappare, ma il nostro bel leone gli fa il ki. Eh no eh, non scappi, non scappi, non scappi. La mia tigra dei denti a sciavola è molto più veloce, si spera. No, oh ciao. Dogmit, no. Dogmit non mi scappi. No, sì. E vai, ma che sniper che sono? Oh. Adesso è arrivato il tuo amicazio. Vieni qui va. Allora, potremmo andare a caccia di yak. Che sarebbero dei animali. Intanto diamo fuoco alla gabbia, un segno che qui sono passati i wenja. e anche un po' calabrio. Ok, vieni con me, tigretto. Ok, non soffro il fuoco solo perché la clava. Se io lo spegnessi, soffrirai il freddo. Poi ce la tengo accesa. No, sì, ma diamo fuoco tanto. Allora, vediamo, vediamo. 90 passi circa. Va bene, ci sta. Ne ho già cacciati un bel po' di pelle, di yak, non sono difficili. Basta avere una lancia, lo colpisci in mezzo agli occhi e morri subito. E la cosa? Per ora ho esplorato davvero poco della zona con la neve perché se non avessi avuto la clava infurcata che ti ha un po' smetti di infiammarsi cavolo, non ce l'avrei mai fatta. si morirebbe subito dopo. Oh, oh, dio, ho dato una clavata alla mia. Oh! Che cavolo ho fatto, tigretto? Ma sei cattiva, ma... Vabbè. No, tu eri un wenja. Credo. Sì, sembro un wenja. Vabbè, dai, la carne te la sei meritata lo stesso. Mangia che è buono, mangia. Allora, gli yak dovrebbero essere lì, in questa zona. Non vedo niente. Però questo è il perello del piglio. Ok, avanziamo. Si dovrebbero vedere, adesso non sono poi così tanto, qui. Cosa c'è in questa zona? Stranio. Scusate. Cosa c'è traverso? Niente. Proseguiamo. Se andiamo su questa scuola... Ah, c'è! E non cagliamo. Bravo, Takkar. Allora, gli yak, neanche l'ombra. E' presa. Prendiamo questo. Prendiamo anche questo per fargli animare gli animali. Oh! Cavolo, la clava sta finendo. Io ora la riaccendo e parte da qui. Tra un po' è finita. Ah bene, il territorio degli yak è questo. Oh! No. Oh, non ce n'è nessuno. Fatemi vedere. No, ho sbagliato. Eh, abilità ne ho una. Ah, perché ho sbloccato anche lui, il cacciatore. Allora. Eh sì, dovrebbe essere questo, gli yak. Poi potremmo anche andare a caccia di orsi bruni, o meglio ancora di orsi delle caverne. Caverna del Cangia. O potremmo andare ad esplorarla, però un po' lontano. Penso che lo faremo nel prossimo video. Ah, io i video li faccio quasi corti per il semplice fatto che altrimenti ci impiega quasi 3 o 4 ore a caricarlo. Ok. Ci impiega, però un giorno ci ho impiegato per cercare un video di 15 minuti e anche 5 ore. Cioè, nel senso, è troppo. Non posso stare a guardare i video. La play, ah, mi ammazza. Per questo li faccio di 5, 6, a volte 10 minuti. Cosa sono? Vabbè, attacchiamoli. No, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Colpisci la gapia e libera l'animale. Oh, io lo faccio. Finché si può. E ora l'animale dovrebbe, avrebbe dovuto uccidere l'uomo. Ma non importa. Oh, eccolo! Guardate. Muore subito. Poi se la tigra gli sopra e gli morde la giugolare, si chiudeva così. Dai, belva. È veloce, ma cavolo, è lento attaccare. Ok, l'abbiamo ucciso. Dai, gli si butta sopra. Bravo. Continua, continua, continua. Ho disattivato le animazioni di quanto raccoglio, perché è davvero meglio. Cioè, dopo... Oh, vai ucciso. Dopo la ventesima volta che lo fa, ti rompe anche un po'. Accendiamo. L'ultima freccia? No, ok, non è più l'ultima. Posso craftarmi le lance? No, però mi dà che crafto queste. E vai. Cosa sono? Winger? No, non sono Winger. Winger è il battino. No, dai, ma ti rilevati. Ne voglio uccidere uno. Non so, però... Ahia, la carica è il battino. Ahia. Ah, a parte che ho questo per morire. Spaccati a metà. Curati, fruga, il nemico. Legno duro, vai. Tigre e tigrotto? Va bene. Raffreddiamo questo senza bruciare. Controlliamo qui. Vabbè, dai, io direi che per questo episodio... Spero, vediamo quanto manca. Sì, io direi che per questo episodio è tutto. Posseguiamo un po' e poi termino. Capra. Dove è andata? Belva? Perché non viene? Ah, e allora, Belva? Visto che ci può andare, potevamo ritrovare un po' di carne. Perché questo gioco, a differenza degli altri Far Cry, devi sopravvivere, non solo uccidere. Ed è uno dei motivi per cui l'ho comprato. Dai, uccidila, uccidila, uccidila. Vai, uccidila. No, 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 basta, vieni qui. Aiuta i wenja. Dall'invasore, dove sono? No, se sono giù non lo faccio. Cioè, non voglio ammazzarmi. Vabbè, dai, 40 dovrebbero essere davanti a noi esattamente. E ora? Eccoli. Ah, no! Oh, c'è un'abilità. Che bello. E posso creare... Sacco di budella. Eh, non è per cattiveria, ma anche no. Ahi, là! Cosa dobbiamo fare? Difenderti da chi se non c'è nessuno. Ah, intanto ciò che è stato fino a muoio. E dai! Da chi vi dobbiamo... Ok, ho capito da chi. Cacchio! Ci sono quelli cazzuti. E come si lanciava? Ok, bene. Belva, ammazzarmi. Ah, che ne muoio! Mi stupido. Belva, stupido. C'è, pigliati una bella... Lanciata. Ma che muoio! Oh, la mitigra, la mitigra, la mitigra, la mitigra, la cura. Cura, Belva, cura, Belva, cura, Belva, cura, Belva. Ok, la Belva è curata. Oh, è morto. Dropage. Fuga, fruga, fruga, fruga. Aiaiaiaia. Guarda il Belva, uccidio, che ci vuole. Cavolo, se questa era la prima indata, immagino le altre. Vabbè, dai, io direi che per questo episodio è tutto. Fatevela prendere bene, lasciate un like e ciao! Ciao!